Salve a tutti ragazzi dal vostro MazingaZetto e bentornati su un nuovo episodio di End of Fate Ho pensato, beh, dato che ho fatto, mi sembra, due settimane di fila a South Park Perché non fare con End of Fate Ok, bene, l'han cambiato di nuovo? Perché prima c'era tutto il... la cosa del... Forse lo faceva solo la prima volta che arrivavi Vabbè Comunque abbiamo ottenuto nella scorsa partita lo scettro Che ci fa andare più veloci, cominciamo con più cibo Iniziamo con qualcosa di più figo Che è la cosa che, diciamo, mi interessa di più Solo che i Rattman sono più forti, i Banditi hanno più vita E i Lizardman sono più forti Quindi ce l'abbiamo nel giro Siamo contro la Regina degli Scheletri Uh, maledizioni Haunted Haunted è infestato, praticamente, perseguitato Ah, ogni volta acquisto qualcosa, prendo la maledizione Cazzo Oh, che stronzi E mi danno, ehm, i mercanti fanno costare le cose meno Cioè, pensate voi Che stronzi Vuoi usare un'equipment raccomandato in Encounter raccomandato? No, voglio farlo io Encounter Allora Uh, delico Demon Trader Demon Trader E quelli con i token, ragazzi, lo sapete Blood Auction No, è l'offerta di sangue Allora devo toglierne un po' Uh, Davis Choy si è cambiato Beh, è molto più bella la figura, così Vabbè Pinot Cones, Leventator, lecce, la piscina, 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 la maiden Eh, Rattman hunting non li posso levare, vero? C'erano i card sono lockati e non possono essere rinforzati dal tuo dà Ah, devo fare culling di Rattman Devo fare questo, poi posso togliere Rattman hunting, ok Allora, l'apprendista lo posso togliere Mr. Lionel, non mi ricordo più che faceva Cosa fa? Sì, 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 sì Sì, non mi ricordo che faceva però Appunto, spiega, parca, parca Lost in Desert, Desert, no Rischio di rimanereci per anni Lizard, me lo prendo Tesoreria reale la prendo, madonna ragazzi Quante carte che abbiamo Holy Forge, Blood Auction Eh, Blood Auction, non c'è più Cioè, una volta fatto Blood Auction 1 Non c'è più? C'è direttamente Blood Auction 2, ok Help Full Priest lo prendiamo Mettiamo Holy Forge Eh, Charity 2 Infatti non dovrò che senso più neanche Charity 1 Se non sbaglio No, non c'è più Charity 1, ok Io direi che la carta va bene così Eh, Beck Queen of Shadow Sì, sì, Queen of Shadow The Shadow The Shadow Non l'avrò più da nessuna stagione Queen of Skulls Dark Dweller Un sacco E Uuuuh Uuuuh Ufff Eeeh Sarà merda ragazzi Sarà merda La vedo difficile La vedo molto difficile Adesso partite 4, 4, 4, 4 Uuuuh Vabbè Allora Prima di tutto Inventario Voglio vedere Uuuuh Siamo cambiati Abbiamo una roba sugli occhi Vabbè Weapons Abbiamo un ascio normale Armatura media Vabbè Siamo medizioni Ah, Crown of Handside Allora Counter Counter Ah, una volta che trovo Eh, ecco Partiamo con questo adesso Ecco perché abbiamo un elmo Abbiamo questa cosa Perché è l'elmo Carino che figura adesso Ehm Quando raggiungiamo le scale Tutti gli encounter Vengono mostrati Mi piace È carina Starting Gear Però non mi dice bene quale Però vabbè Armatura media E questo coso Mentre scudo è lo stesso Lascia lo stesso Ok A posto Per me va bene Andiamo avanti Strangers in the shadows Ok Ehm Ah, la solita cosa Ah, il vampiro Quello che Devo Farmi mordere per i soldi No, grazie Però vedete Non ci fa niente Cioè Ha solo bisogno di nutrirsi Però non ci rompe Ah, Sleep the Forest Uh, un token Ehm Mentre dormi Sì Mentre dormi Nella foresta Sei svegliato di colpo Da una voce Che chiama il tuo nome E vedi una figura Vagamente umana Cioè Un fantasma Con la figura Vagamente umana Che Ehm Scatta verso di te Ehm Ti metti velocemente In piedi Con l'arma in mano Il Il fantasma Si ferma E Ehm Con le mani Fa segno Che non ti vuole Fare male Far del male La voce è molto Lontana e distante Mi hai già dimenticata Questo posto Ti ha già così tanto Corrotto Oh Cazzo Vabbè Siamo alla seconda cosa Posso abbassare l'arma Non dovrei essere qui Ho paura di questi Ho paura che I servi Sapiano già dove sono Per un breve momento Negli occhi bianchi E vuoti Del fantasma Ti sembrano familiari Per favore Torna presto a casa Ehm Sbatti gli occhi E Il fantasma Se n'è andato Quello che rimane ai tuoi piedi È una sacca di cibo Ottieni Una Una carta di guadagno di cibo E il token Ho fatto la giunta giusta 3 di cibo Ottimo Partiamo anche con 15 Adesso Ho fatto 10 Ho fatto pencil Meglio che potevo fare Cos'è? Dark Dweller Non so cosa sia Perché è una carta nuova Bello che anche il cartomato ha detto Neanch'io sono sicuro Da dove venga sta roba Ok Dark Dweller Il tuo passaggio è bloccato Da una massa malefica Di tentacoli d'occhi Mentre stai guardando Anche mentre stai guardando Continuano a uscire Nuovi tentacoli Torna indietro O cerca di girarci Intorno Se torni indietro Però cosa c'è? Clip back Attento To get around Proviamo ad andarci intorno Oh Cacca Cacca Può essere questa Sì È molto più Rintracciabile adesso Con una combinazione Di abilità Coraggio e fortuna Riesci a farti strada Tra i tentacoli Boom baby Scade? Twisted Canyon Dovrebbe essere un'arma Credo Vedi un'arma Vicino a una schieretta In fondo Un canyon Ci sono pochi posti Dove aggrapparsi Potrei morire pesante No Lasciamo stare Ah Lo devo rifare Oh Cazzo No Prova Scrappare Ah Però Vado di Ah Porco Giusto Vabbè Niente Ho strecato del cibo A caso Vabbè Speriamo di rintracciarlo di nuovo Allora Lì sopra Qui O l'ho perso di vista L'ho perso di vista L'ho perso di vista Due carte Ah Cinque vita massime in meno Bene E perdo un equipaggiamento Lo scudo Porco cane Forest Escape Ah Nuova Non sono più scade Ok Prendi la strada Dalla foresta Oh Cacchio Ti odio Cazzo Questo è veramente sconto Vabbè Trovo a mandarti qua Holy Forge Uh Bene Cos'è In una strada solitaria Polverosa Ti trovi vicino Ai Ai resti Di un antico monastero Cercando nell'edificio Trovi un uomo Un uomo molto anziano Vestito con Vestiti Rovinati Tempo fa Eravamo la Confraternita Che forgiava Le armi sacre Per sopportare La guerra Contra gli infedeli Ma gli infedeli Erano più forti E un giorno Hanno fatto Diciamo un raid E ci hanno distrutti Hanno distrutto La maggior parte Dei nostri strumenti E ci hanno rubato Le nostre provviste Inclusi tutti I metalli rari Che usavamo Per fare le armi La guerra Il re 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 Se ne sono andati tutti E è rimasto solo lui Non si è più fatto vivo a nessuno Ah, ciao. Non potevo fare altro? Forse dovevo avere dei soldi. Uh, Lizardome! Una notte, vieni catturato dall'alene di Lucertola e portato davanti al loro re. Ti hanno tolto l'accompaggiamento e ti fanno scegliere un combattente da combattere nella loro arena. Jack of Scalette of Scales. Scegli una carta da tenere. Ma io non ci provo. Cominciamo già con Scalette. Sì. Perché magari, non so, apprezzano la... Ti prepari per la battaglia. Magari apprezzano il fatto che provo contro un nemico forte. Che cacchione so io? Non mi ricordo come fu... Oh, cazzo, è cresciato di nuovo. Beh, è cresciato, no. Si è bloccato un attimino. Bene. Devono sistemarla, sta cosa. Dio, come piccola l'area... Ah, no, no, no. È bella, è bella grossa. Ho un nuovo oggetto. Ah, c'ho solo un'ascia... un'ascia arroginita. Ah, no. Dodge, stun, attack... Sì, sì. Oh, cazzo, spara il Jack of Scalette? Cosa non mi ricordavo? Oh, oh, oh. Boh. Ah, è quello il Jack of Scalette. Non è lui che spara, che forse fa due con i fucilieri. Da quando hai i fucilieri, il Jack of Scalette? E come sono velocissimo. Oh, oh. Ah, io vorrei uccidere i fucilieri, se non disturba. Ah, va. Ah, si colpiscono tanto di loro. Forte. Vai. Il fucilo. Si fancola. Ok, ok, ok. Fisci. Fisci. Boom. Ok. Ah, giusto. La merda li resuscita. Eh, sta. Li resuscita. No, vassalo stare. Sta. Non lo posso neanche attaccare mentre lo fa. Ma porca. Quindi devo uccidere il Jack of Scalette prima. Ok. Fiscilo. Ma porca. Ah, ok. Se insisto lo colpisco. Ok. Ok. E lui è morto. Andiamo da... Il fuciliere. Dovrebbe essere l'ultimo rimasto in vita. Scusa. Sì, ok. Va bene, dai. Da fa bene. Col joystick, ragazzi, è veramente molto più semplice giocare. Ok. Quattro carte guadagno. Eh, sì. Perché probabilmente... E mi da anche l'equipaggiamento. Una carta equipaggiamento. Tondra's Cat. Uh, bene. Quando devo prendere provviste, pesco due e scelgo uno. Penso che sia l'elmo più bello che c'è. Questo delle scale non mette la scala. Ho 40 di oro o 10 di oro. Direi 40 di oro. Poi. Così, dai. 25 di oro, 15 di oro. 25 di oro. Questa è una carta del mazzo perché... Ti vogliono far spendere soldi ai negozi. In modo che tu prendi le maledizioni. Posso tornare indietro e cercare di liberare dei prigionieri. Ci provo. Uh, cazzo. Vabbè. Ho questo o questa. Sì. Ok. Strisci indietro di tunnel e riesci a liberare con i prigionieri. Mentre stai scappando, una guardia dà l'allarme. Mentre conduci il gruppo alla superficie e nel buio. Che tu sia benedetto per averci salvato Pesco una carta benedizione Holy touch Se mi colpiscono i non morti C'è una chance che si fanno del male E il cartomagno ha detto È un po' troppo forte Devo ribilanciarla Va bene Come cacchio lo prendeva il token? Scappando? Va bene Di qua per la te Culling the ratman Dov'era vera è abbastanza soldi Spero È quello che paga il duca 50 di oro A wise decision Ok 50 di oro in meno Ah e mi dà anche una spada Ok Che sarà il Ah no Che è proprio Rat Cleaver Uh Carino Sì sì In pratica Fa il doppio di mani contro i ratman E in più Dove si dice Cos'è questo? Posso tornare? Ah Holy Forge Posso tornarci? Un brotherhood of peace In servizio del war Non mi fa fare niente Vabbè Non ho capito cosa devo fare Forse ci sarà del tipo del Del metallo In questa zona E posso portarglielo Ratman hunting Ok Sì Dalla prossima volta posso Posso togliere Jack of Plague E Six of Plague Cazzo Vabbè Dovrei fare il doppio di danni Quindi almeno Gli faccio male E con il left bumper Dovrei Sì come al solito Se ferma un attimo Con il left bumper Dovrei Fare un attacco Che stordisce i nemici Quindi Non è male Vediamo eh Miglia Sei ratti Più Altri due ratti Più Jack of Plague Magazzi E non ho lo scudo Vero Aia Web on ability Sì ok Pulling Carina Viva Mi stanno Mi stanno sfondando Perché non posso Parargli niente Difficie Quanto cazzo Ma fa solo Solo la combo per Ah ecco Sordisciolo E muori Porco giura Non c'è solo la combo Non parabile Ho preso un po' di danni Vabbè Però è carina la mazza Sì Fanno dei danni allucinanti Perché ho ucciso In un attimo Sti qua Ok Shop Ma fa Approach Vale anche per il cibo Secondo me sì Anche per il cibo E ho Diciamo Ho la meredizione Che se io Pre Compro qualcosa dal negozio Mi maledice E I I tizi Forse anche se Anche Sì Vedi la roba a 20 A 10 Non si è mai visto La Frostfang a 12 Eh vabbè Ah voglio 25 Non ho nerfato da morire Vogliava 40 una volta Frostfang Vabbè Eh Questo non mi serve Voglio A parte posso vendere No Sì posso venderti Crown of Exile E lascia Lascia non mi serve Ok Vorrei uno No no Non voglio andarmi Volevo uscire C'è uno scudo No Vabbè allora curami Chissà se si può 10 di vita O 15 di vita Per 10 No vabbè Ma così Ok Esci Sì ok Almeno Per il cibo Non lo so Perché comunque 12 mi basta Ma per curare le ferite Non me ne frega niente Cioè non mi maledici Ok Entri in una caverna Sì probabilmente vale solo per L'equaggianito Raph Benhunting Un altro Altri due 4 E 6 Eh cacchio Sì vabbè Con l'abilità che stordisce È una figata Però comunque Possono farmi maluccio Ok Weapon Abile Sì 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 L'ho già usato Ah mi riconosce Che è un joystick Alla PS4 Wow Ma va Avrei continuo a dirmi Left bumper E non L1 E ostina direte cose Allora facciamo una cosa intelligente Uccidiamo quelli che tirano le rode Asso Ah no giusto Che idiota Tutti gli attacchi Sono rossi Perché non li posso parare Perché non esiste la parata Con Se non hai lo studio Tutti gli attacchi sono rossi Perché si diventa Che sono imparabili Ma giustamente Perché tu non li puoi parare Perché non hai lo studio Ok Prima che Il veleno Ma giusto tolto uno Ma giusto tolto Bene 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 Ok Una carta guadagno di cibo Almeno Grazie Hai trovato del cibo Dalle carcassi 5 di cibo Ottimo Problemi di cibo Non ne stiamo avendo Strano Cos'è? Tesoreria reale Una carta nuova Ha detto Posso vedere I tuoi occhi Scintillare da qui Nelle profondità Delle caverne Più profonde In una Remote wilder Cioè Diciamo Proprio Più profonde Come nella torre Più alta Del castello Più alto Della torre Più alta Della montagna Più alta Questa roba qui Ti trovi Nella stanza Del Del tanto decantato Tesoro Stanza del tesoro Del vecchio La leggenda dice Che è piena di tesori Collezionati In cento anni Ma Diciamo Protetta Da un sacco Di incantesime Trappole Io provo a entrare Oh Non sa che potrei morire Qua Forse è questa Ma proprio no Sono proprio mancata Di brutto Sono morto Mi sa Sai Che 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 Mi Mi ha Mi ha Mi ha C'ho 32 Di vita Massima Approcio Il treasure Chest Putta La miseria Questo Cosa Ma stavolta L'ho visto Il successo Bene Sì Ciao O bel Ah in teoria È questa Ah Tavolta Sì Almeno Non muoio Prova Ad aprirlo Cazzo Fallire Questa Non lo è Non è possibile No 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 Questa è una cazzata Questa no Questa no Ma Porca 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 Un Un Permanente Descubbio Per chi Willing To Un Scudo Un 19 Di Oro Sì Vabbè Mi fa Gli sconti Però mi prende Una maledizione A 32 Di vita Porca Va Stava andando Tanto Bene Scudo Proprio Scudo Prendere Una maledizione Cosa fa quella Tanto che morirò Voglio sapere di che morte sto per morire Cosa fa il dealer's fight Fammi vedere Maledizioni Giusto 2 o 3 No è una benedizione Ma non ci posso credere Ah no Se trovo uno huge success Prendo la carta Sofferenza Demon trader Nei tuoi sogni una notte Vieni convocato da No in una fossa Da un demone Sento che hai Dell'aura sopra di te Voglio commerciare Ah ok Posso dare una benedizione Per un oggetto magico Cosa fa la benedizione? Quella che agite contro gli scheletri Sì sì te la do Ti prende un pezzo di anima E ti dà il token Ehm Tasty Succosa sarebbe Buona Il tuo nuovo oggetto magico Ti sarà spedito Nel regno mortale Al più presto Ma fa culo Ma fa culo Nel frattempo Prendi questa cosa Vecchia Che cos'è? Warcry Red Bum Red Bum Perfano Warcry Ah ok Faccio più male È un artefatto Sì L'oggetto magico Sarà il token Ok Scale Sì però ragazzi 32 Un negozio Un negozio Che c'è che faccio il negozio? No no L'ignoro stavolta Tanto è solo per È solo perdere del tempo Dark Dweller Bene È proprio Sì va bene Ma Va bene Può essere questa o questa Proprio Proprio sì Ehm Due carte Meno 15 Di vita massima Cioè Vota 17 Ok quindi È perdo un espaggiamento Lo scudo Mi sono preso una medizione per niente Noble Trader Percante nobile Posso dargli la mia arma Tanto ormai l'abbiamo perso Dammi il token Sì sì Mi dai un Spratacchio di soldi 10 D'oro per ogni benedizione Non ho benedizioni Quindi mi darebbe zero Probabilmente Grazie Sì sì Non ci faccio niente No no Ma ho già deciso che ho perso Ho venduto la mia arma Vai Almeno prendo il token Mazza quanti soldi 40 di oro Finiti Ok Grazie per il token Non vincerò Perché ormai non potevo vincere Almeno Deadless Choice Oh Ma lo sapevo Però tanto erano tutti due Penso che qualsiasi cosa avessi scelto Dovrei avere la lascia rugginosa Esatto No ce l'ho allo scudo Che c'è una cosa Non è che si countera più Almeno Ah Con triangolo Ok Boom Triangolo Boom Counter 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 attack Counter attack Hanno reso i nemici molto più intelligenti Eh Posso dire Perché parano adesso Cioè lo usano lo studio Non ce l'hanno solo come bellezza Ah 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 E quando mori Su Oh Dai Oh Il pizzi Si ok che lascia rugginita Però porco Giuda Ah 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 Adesso è proprio giusto per intrattenimento vostro Perché Ho perso Ho palesemente perso Con necessità di vita Anche avessi le armi al massimo 3 carte guadagno Oh Uh Life limb Si Vabbè va 27 di danno Bene Così tanto Ah ok Si va bene Meglio di niente Probabilmente male di Più 10% di vita Più 10 di vita massima Wow Grazie 5 di cibo Ho 27 di vita massima Wow Cioè un colpo di un boss Allora in mente Mercato 161 d'oro Penso di poter far qualcosa Non è ancora finita Madonna quant'è lunga Questa Ah Cosa c'è di bello Flitcars Diventi più veloce Uh carina Allora ci compriamo Questi qua Che mi fanno andare più veloce Maledizione Non me ne frega una mica E questa armatura Che è meno della mia Perché è una cosa Diciamo Leggera Mentre io c'ho una media Ma Si Facendo così Questo è fail Non me ne frega niente Ma Quanto posso vendere roba No Medium armor E basta No Tutti i più peggiori Si No Voglio comprare del cibo Dammi del cibo Ok Per il cibo La maledizione non funziona Per la prossima volta Lo sappiamo E Uno che mi velocizza I guanti Mi velocizzano Mentre L'armatura Rallenta il nemico E' carino anche per quello Vediamo qua Dev scala rail Fiera del diavolo Continua Ok Non ho visto cos'erano le maledizioni Bene Infatti You success Bene Eh giusto Pesca una maledizione Bene Un'altra Ah cazzo Ogni volta Ogni nemico morente Ha al 40% di chance Di mollare una bomba Cazzarola Ok Bene Vediamo se Perché mi sembra che l'abbiamo già fatto Per cui non lo sto leggendo Dovrebbe No Dovrebbe essere Comunque avrei preso il figlio Una carta di danno Dieci per ogni maledizione Sono morto Ma no Ma no Ma non ci credo Cioè sono morto per le maledizioni Ma Prego Eh decisamente Vabbè Vediamo un po' i token Si io posso riprovare Per essere Per aver mostrato Per essere Per essere Per essere Per essere Non mi viene il termine italiano Per essere caricatevole Con il fantasma Ricevi Adormentato la taverna Ok Poi Questa deve essere un'arma Per Per Collider Ratman Ratman hunting Ah ok Posso togliere Ratman hunting E ricevi La rat cleaver Che l'ho già usata Bene Poi Questa dovrebbe essere L'arma del demone Si Ricevi Golden ring of pain E demon trader 2 Ok Questa invece cos'era? Ah per il nobiluomo Ottimi diamanti Ok Mi hai fatto il culo Peccato Avrei voluto vedere Cosa facevano Le mille maledizioni Che ho preso Comunque ragazzi Questo episodio termina qui Ci vediamo alla prossima Ciao